Ragazzi, benvenuti in un nuovo video da Marco Azzurro, è praticamente fatta Toma Basic, affare addirittura d'arrivo per il Napoli ragazzi Video proprio sobrissimo, velocissimo, molto molto leggero perché è un affare che praticamente è stato chiacchierato tanto perché è un giocatore che a prima chitto così sentendo il nome effettivamente non dirà niente a molti di voi infatti molti stanno dicendo che sembrano tutti i fenomeni a vederli, poi arrivano nel Napoli e fanno schifo sarà un altro pacco, però questo mi sembra veramente un bel giocatore, un giocatore equilibrato che magari non farà giocate assurde anche se le ha nelle corde, però è un giocatore che può rendere a livello concreto visto che è un giocatore molto forte fisicamente, uno scattista, un contropiedista, uno che corre e sinceramente a spalletti serve un giocatore del genere, quindi io a momenti mi viene quasi da pensare che ragazzi sia un nuovo Fabian Ruiz, perché il giocatore è opposto a Fabian Ruiz, è un Fabian Ruiz veloce e Fabian Ruiz ha un problema, che è lento, quindi il Napoli sta accompagnando un nuovo Fabian Ruiz a fare che dovrebbe arrivare intorno ai 7-8 milioni di euro, parliamo di spiccioli ragazzi veramente ovviamente, ve l'ho detto, il Napoli farà un mercato molto low budget, faremo giocatori più utili che altro non saranno colpi altisonanti, anzi non penso che ce ne sarà nemmeno uno e a meno che non venga ceduto qualche biggo, ovviamente, e io penso che comunque questo sia un ottimo giocatore perché ha una buona tecnica, un buon tiro e la corsa, la corsa è un fisico quindi giocatore molto completo ragazzi, molto molto completo, molto 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 completo secondo me affiancato a Demme a centrocampo potrebbe veramente sfondare cioè mi immagino già ragazzi Demme e Basic sulla mediana, che spettacolo e veramente potrebbe essere molto interessante, ma non dobbiamo aspettarci il mondo da questo giocatore un giocatore utile, niente di più quindi, Basic sembrerebbe essere il primo colpo addirittura d'arrivo poi magari come sempre uscirà De Laurentiis con una bella intervista e dirà, no non è vero niente, non ho preso nessuno Basic non so nemmeno chi sia fake news di qua, fake news di là e quindi magari poi alla fine sarà tutto falso ma a quanto pare non ci stanno arrivando smentite e quindi Basic potrebbe essere il primo colpo e sarebbe molto bello noi ci vediamo nel prossimo video comunque sempre e comunque forse nati, ditemi cosa ne pensate anche se lo so già perché mi sono arrivati circa 300 commenti qualcosa di assurdo, vi ringrazio il video su Basic sta splendendo assolutamente è uno dei video più visti del canale quindi proprio stiamo facendo fortune grazie a Basic e quindi ragazzi sono davvero felice per questo colpo e anche felice per questo video e noi ci vediamo comunque alla prossima da Marco Giuglio è tutto vi chiedo un'iscrizione ragazzi vi chiedo un'iscrizione perché con questo canale con il mio canale se vi iscrivete rimettete aggiornate H24 sul notizie riguardanti il calcio Napoli quindi iscrivetevi e mettete like ciao Grazie a tutti.